Ciao, io sono Maurizio Leoni e sono un sassofonista professionista e un insegnante di sassofono. Se sei arrivato su questo canale è perché ami il sax e allora ti faccio i miei complimenti. Io amo insegnare il sax, mi piace proprio la trasmissione delle mie competenze e quello che ho imparato dai miei maestri trasmetterò ai miei allievi. Se suonare il sax è il sogno della tua vita, ricordati suonare il sax è semplice, è facile, bastano 10 minuti al giorno e in breve tempo comincerai a divertirti con il sax. E già alla fine della prima lezione imparerai la prima canzone. Ci sono molti video nel canale e sono organizzati in playlist. Allora c'è una playlist principianti per chi non ha mai suonato il sax e non sa neanche cosa sia. Se invece già suoni il sassofono e ti vuoi perfezionare, allora vai nella playlist perfezionamento. Puoi trovare molte video lezioni su come migliorare alcuni aspetti critici del sassofono. Ricordati che le mie lezioni sono spiegate in un linguaggio semplice e accessibile perché io penso che il sassofono sia uno strumento semplice e facile da suonare per divertirsi. Ci sono poi recensioni, tutorial sul mantenimento, la manutenzione del sassofono, c'è una playlist Relaxing Music e poi c'è una playlist che si chiama Assoli di Sax. Lì ci sono gli assoli di sax più famosi per le quali scommetto che anche tu ti sei appassionato al sax. Ma attenzione, in molti video c'è la possibilità di scaricare gratuitamente lo spartito. Allora io ti dico questa cosa. Iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra ho scritto Iscriviti. E poi se vuoi studiare sax con me, clicca nel link Studia con me, clicca qui. E prendere un appuntamento di persona se siamo vicini, invece se siamo lontani anche su Skype. Ciao!